Salve! Oggi riprendiamo la rubrica dei Paesi Stanno. Nello scorso video abbiamo parlato dell'Uzbekistan, mentre oggi è il turno del Turkmenistan, uno stato alquanto strano. È forse infatti il paese dalle leggi più strane. Fate conto che in Turkmenistan sono vietate le vetture nere? Un'altra cosa particolare che ha fatto questo presidente è stata costruire una statua di se stesso in oro che gira a seconda del sole e costruire una statua sempre d'oro massiccio dedicata al suo cane. Boh. Tuttavia è un paese che comunque ha da offrire, ad esempio, la capitale Ashgabat, una città moderna ma che potrebbe anche avere un aspetto spettrale da un certo punto di vista. Infatti è una vera e propria città costruita in marmo bianco in mezzo al deserto. Il Turkmenistan, con 491.000 km2, è il 52esimo stato al mondo per estensione. Confina nord con il Kazakistan, a sud con l'Afghanistan, a est con l'Uzbekistan e poi è anche confinante con l'Iran e il Mar Caspio a sud-ovest. La costa occidentale del paese è inoltre bagnata dalla laguna di Karabogashgol, ovvero un vero e proprio lago che è comunque grandissimo con una superficie di 18.000 km. Vi ho messo qua due foto satellitari in proporzione del lago di Garda, che è il più grande d'Italia, e di questa laguna per vedere un po' la differenza. Che è confinante col Mar Caspio, tuttavia ha una salinità del 35% che la rende elevatissima rispetto all'1,2 del Mar Caspio. Come avevo accennato nel video dell'Uzbekistan, il deserto del Karakum si trova per la maggior parte anche in Turkmenistan. E in questo deserto si trova anche la Porta dell'Inferno, ovvero un createre che è stato creato artificialmente per errore dopo un incidente che era stato causato dalla ricerca di petrolio nella zona e gli addetti avevano incendiato i gas naturali che erano fuoriusciti per motivi di sicurezza, pensando che si sarebbero spenti nell'arco di qualche giorno, e invece dopo svariati decenni ancora bruciare ed è diventata un'attrazione turistica. Il punto più alto del paese è invece situato al 3198 metri sul livello del mare e si trova sulla montagna di Airi Baba, situata lungo la catena montuosa di Koitendag. Sembra quasi un nome tedesco. Sempre nel video relativo all'Uzbekistan vi avevo detto che il confine tra questi due stati era segnato dalla Mudarja, che anche in questo caso rappresenta il principale fiume del paese. Il Turkmenistan ha una popolazione di poco più di 6 milioni di abitanti. La popolazione Turkmena è composta dall'85% dall'etnia appunto Turkmena, dal 6% da Uzbeki, che comunque l'Uzbekistan è un paese molto vicino, come avete visto prima, e infine il 5% da Russi. La lingua parlata è il Turkmeno, molto simile al kazako e all'Uzbeko, sempre con l'alfabeto cirillico, tuttavia è sempre una lingua differente. Oltre ad Ashgobat, la capitale, le altre due città più importanti del paese sono Turkmenabad, e anche qui non possono ovviamente mancare statue d'oro di persone, presidenti, mentre la terza città è Dasuguz. Comunque, provate a cercare anche voi quest'ultima città, davvero ho trovato foto soltanto di questo palazzo. C'è una città intera da oltre 100.000 abitanti, c'è soltanto un palazzo come foto se cercate su internet. E niente, dal misterioso palazzo di Dasuguz possiamo chiuderlo anche qui, e quindi ci rivediamo per un prossimo video, che forse non sarà sui paesi stan. Ciao! Ciao!